Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro GatorreGiorso94 Vi chiedo scusa fin da subito se mi vedete un pochino oscurato ma devo fare questo video molto velocemente e non ho il tempo per trovare un'angolazione adeguata Diciamo che uno degli argomenti principali di questo video è proprio la mancanza di tempo però vi spiegherò man mano il perché ho deciso di farlo Allora, io non ve lo nego, vi voglio fare questa confessione Attualmente mi trovo in difficoltà nel gestire il mio canale per tantissimi motivi Allora, prima di tutto io, come ben sapete, non lavoro con YouTube YouTube per me è una semplice passione, faccio video quando posso ogni tanto ma remunerativamente parlando non mi dà da vivere, in parole povere Giusto quel qualcosa che mi permette di comprarmi, che ne so, la luce per fare meglio i video il microfono, il cavalletto eccetera eccetera ma niente di particolarmente eclatante Io faccio un altro lavoro che mi impegna gran parte delle ore del giorno Praticamente io dalle otto e mezza di mattino fino alle sette e mezzo, in alcuni casi anche otto non torno mai a casa ed è per questo motivo che molto spesso vedete i video che faccio qua in macchina perché non tornando a casa come faccio a farvelli nella mia location normale Detto questo, ultimamente al mio lavoro, io lavoro in un concessionaria il lavoro è aumentato a dismisura, le cose da fare sono aumentate a dismisura Pensate infatti che qualche giorno fa ho lavorato un'ora e mezza in più del normale perché avevo delle cose da sistemare e sono tornato a casa addirittura alle nove stanco e affaticato Questo è uno dei motivi che mi ha portato, come avete visto anche nell'ultimo periodo a portarvi meno video, alternando video normali a live su FIFA parlandovi delle partite eccetera eccetera perché quelle sono cose immediate, sono cose molto semplici da fare visto che mi è tornato il telefono ho deciso di riportarvele e ho visto che comunque le avete apprezzate e in questo modo mi hanno tolto meno tempo di editing, montaggio eccetera eccetera Io però so bene e non voglio trasformare il mio canale in un canale di live Le live le posso fare ogni tanto, quando magari c'è anche il mio cugino quando magari ci sono argomenti belli di cui parlare però io non voglio improntare il mio canale solo sulle live le voglio fare più in modo alternato In ultimamente mi sono accorto che ne ho fatte troppo uno di seguito all'altra proprio per il motivo del tempo lavoro tanto, ho i miei impegni, ho gli amici, ho la fidanzata purtroppo io anche per via del mio lavoro non riesco spesso a trovare il tempo per poter fare video e non è tanto una questione solo di tempo ma anche una questione di stanchezza perché una volta tornato a casa molto spesso la voglia c'è di fare qualcosa però mentalmente uno si sente magari qualcuno di voi sicuramente mi capirà però magari la testa ti dice no, riposati, sta tranquillo cioè hai lavorato tutto il giorno, non puoi stare a pensare a fare tutti quanti questi editing e montaggio anche la sera cerca di riposare e stai a posto io infatti molto spesso mi sono ritrovato costretto a fare video addirittura alle una fino alle una e mezza ad editare e modificarli infatti il giorno dopo ero un mezzo cadavere e per me purtroppo questa cosa non è sostenibile almeno in questo momento diciamo che questa problematica si è unita anche alla mancanza di argomenti veri e propri perché se per gennaio comunque i video ve li ho portati comunque tre video al giorno in alcuni casi due, in alcuni casi tre video al giorno ve li ho portati comunque costantemente è anche perché comunque ci sono voci di mercato le pagelle del mercato, le partite, le recensioni, pagelle eccetera eccetera quindi in quel caso è più facile portarvi video uno di seguito all'altro attualmente voi per la stanchezza, voi per la mancanza di argomenti mi trovo in difficoltà nel proporvi nuovi video sia mentalmente sia perché leggendo sui vari siti non riesco a trovare argomenti principali e in questo modo diciamo che dopo questa piccola parentesi vi faccio la mia richiesta io ho bisogno che voi sotto questo video e in generale dove volete voi o tramite il mio profilo Instagram o tramite la mia pagina Facebook o sempre commentandomi però sotto altri video vi chiedo per favore, ve lo chiedo per favore di aiutarmi nel trovare argomenti da portarvi nei prossimi video mi spiego meglio, magari qualcuno di voi la vedrà anche come una cosa scontata il fatto che io vi debba parlare di qualcosa però proprio perché non ho tempo molto spesso può capitare che alcuni argomenti mi scivolino da dietro le spalle e non me li ricordo più e quindi non riesco più a farci un video se però voi volete che io parli di qualcosa che a voi interessa me lo dovete far sapere così almeno mi date una mano perché io li leggo tutti i commenti magari qualcuno potrà dire eh io lo scrivo ma tanto non leggerai mai i miei commenti io i commenti li leggo tutti poi non posso rispondere a tutti quanti però i commenti li leggo tutti cancello quelli offensivi pesanti non quelli critici normali cioè quelli offensivi pesanti gli spam eccetera eccetera però i consigli che mi date io li leggo sempre quindi vi volevo chiedere come prima cosa di farmi sapere nei commenti oppure in privato sui miei vari profili di quali argomenti volete che io vi parli nei prossimi video almeno mi date una mano e io so che portandovi quell'argomento può interessare perché appunto me lo avete chiesto voi un'ultima cosa che vi volevo chiedere la seconda cosa come ben sapete io ho cioè oltre ai video in cui parlo di argomenti generici le recensioni le pagelle che quelli sono diciamo classici ho aperto delle rubriche mie personali come il Roma Marcord Football Marcord Story di Giallo Rossi eccetera eccetera queste rubriche che comunque avete visto che ho portato avanti già da diverso tempo già da qualche anno per tutte quante il problema però è che io mi sono accorto che ultimamente i video sulla quale mi sono impegnato di più e che volevo andassero meglio in realtà sono quelli andati peggio e mi riferisco ovviamente al racconto di giocatori storici della Roma per esempio del vecchio Bruno Conte eccetera eccetera oppure in generale sulle altre due rubriche non ho visto il risponso che mi aspettavo non è stato certo un disastro però mi sono accorto che il risponso del pubblico non è stato è stato inferiore rispetto alle mie aspettative io a me piacerebbe portarvi video più sul passato sia di Roma che di altre squadre che sul presente ovviamente se succede qualcosa di importante sul presente ve ne parlo però mi piacerebbe anche raccontarvi cose del passato come per esempio gli 8 mili difensori della Juve degli ultimi anni sul football a Marcord vi posso parlare anche dei 10 precedenti dei big match della serie A oppure sul Roma a Marcord avevo iniziato la rubrica sulla storia della Roma che ho interrotto per motivi di tempo e perché dovevo ancora stirarmi un po' l'elenco di video da portarvi però io voglio capire sempre da voi se questi video vi possono piacere e ovviamente non è che venite a scrivere sì mi piace se voi volete per esempio il video sui difensori migliori della Juve ditemelo fatemelo sapere fatemi sapere tutto quello che pensate tutto quello che volete io leggo tutto tutto quanto io attualmente io vorrei portarvi quel genere di video football a Marcord del Roma a Marcord della storia di giallo rossi però voglio capire prima di tutto da voi se vi potrebbero interessare perché io lo sforzo ce lo posso anche mettere però ovviamente lo sforzo per quello che crea contenuto è sempre bello vederlo vederlo sfruttato nel senso che se io vi porto qualcosa per la quale ci ho messo tanto impegno preferisco mille volte che quel video faccia successo piuttosto che magari un video sfogo un video in cui parlo di una cosa successa adesso eccetera eccetera so bene che è difficile perché non ho un pubblico fidelizzato al massimo e quindi non mi posso permettere di portare video come mi pare cioè video quando mi pare come mi pare però ve lo volevo chiedere se voi volete che io ricominci queste serie e volete che io vi dica cioè volete scusate mi sono un attimo perso comunque se volete che io ricominci questa serie e volete magari qualche argomento in particolare come i dieci precedenti di Napoli-Lazia ad esempio i dieci precedenti di Mina-Juve i difensori migliori della Juve i difensori migliori dell'Inter eccetera eccetera oppure addirittura delle idee completamente nuove fatemelo sapere sotto nei commenti cercate di darmi una mano ve lo chiedo comunque in questo video poi se non lo volete fare tranquillamente ci mancherebbe però se volete che io continuo a portarvi video sempre nuovi su argomenti diversi datemi una mano visto che io per tempo e per vari impegni non ce la faccio a seguire tutto quanto questo era soltanto il fulcro del mio discorso spero che comunque abbiate capito bene quello che intendo io non voglio certo bloccare il canale o non fare più video perché non ci mancherebbe non è che io voglio fermarmi qui anche perché nell'ultimo periodo sta andando anche bene il canale quindi sarei uno stupido a fermarmi in questo momento però vi volevo chiedere per poter mantenere il canale vivo e concreto sotto il punto di vista degli argomenti di video se potete darmi una mano semplicemente questo vi chiedo ulteriormente scusa se in questo video magari in alcuni punti mi sono perso però purtroppo per il motivo del tempo che vi ho detto proprio all'inizio che è il fulcro principale di questo video non riesco ad editare questo video questo video questo video questo video quindi lo sarei registrando adesso e poi lo caricherò subito dopo aver cliccato il tasto stop un saluto dal vostro GattoriGio64 per oggi penso che questo sarà l'unico video che vi porterò scusatemi veramente tanto però anche oggi purtroppo ho tante cose da fare e quindi non riuscirò ad essere libero per portarvi altri video almeno per quanto riguarda oggi un saluto e sempre forza a Roma ciao ragazzi